In questo tutorial vediamo come correggere o quantomeno ridurre i problemi di color fringing che possono affliggere un'immagine. Con color fringing si indica un sintomo legato all'aberrazione cromatica laterale che si manifesta come un alone colorato attorno ai soggetti, in genere particolarmente visibile in presenza di zone ad alto contrasto. Per chi volesse approfondire, come sempre, c'è dptrack. Sul sito è presente un articolo interamente dedicato alle aberrazioni ottiche. Comunque ora dedichiamoci alla correzione del problema in fase di color. Prima di tutto ingrandiamo l'immagine per capire con che cosa abbiamo a che fare. Come si può vedere questa è una situazione estrema, abbiamo un controluce ripreso con un teleobiettivo anni 70 alla massima apertura. L'immagine è già stata lavorata nel nodo 1, diciamo che questa è la nostra color definitiva sia in termini di contrasto e luminosità che di cromia. Quindi possiamo procedere a eliminare il fringing senza timore di eccedere nel rischiare che riemerga nei passaggi successivi. I metodi che vi mostro sono due. Non ce n'è uno sistematicamente migliore, quale risulti più efficace dipende dal tipo di immagine. Quello che posso dire sulla base della mia esperienza è che a prescindere dalla situazione almeno uno dei due metodi è sempre in grado di offrire un risultato soddisfacente. Iniziamo col metodo layer mixer che in questo caso probabilmente risulterà meno efficace. Aggiungiamo un nodo e poi un layer node. Scegliamo come metodo di fusione luminosity così da prendere dal nodo più in basso il numero 3 solo le informazioni luma e dal nodo più in alto, in questo caso il 2, solo le informazioni croma. Selezionato il nodo 2 ci spostiamo sulla tab del blur per sfocare il canale del colore, fino a che osservando l'anteprima non ci sembra di esserci liberati di un quantitativo di fringe tale che il residuo non sia più percepibile nelle normali condizioni di osservazione, ossia una volta smesso di osservare le immagini al 629%. Facendo un confronto tra prima e dopo direi che ci siamo. Vediamo a schermo intero. Eh sì, a una normale distanza di osservazione non noto più alcun problema. In questo caso immagino dovrete accontentarvi della mia parola, dubito che su YouTube si riesca a vedere ciò di cui sto parlando. Comunque prendiamo una still così poi la confrontiamo con i risultati prodotti dal secondo metodo. Cancelliamo il layer node e aggiungiamo un semplice seriale. Per questo secondo metodo utilizzeremo unicamente il color warper. Aumentiamo la definizione al massimo. Almeno questo è quello che faccio sempre io, non mi sono trovato in situazioni in cui fosse più utile lavorare a definizioni inferiori. E andiamo a analizzare un po' l'immagine per capire dove si collochi questo fringing. Ok, abbiamo un'idea chiara. Facciamo una selezione bella ampia così da evitare il rischio di produrre artefatti, tanto questi colori non si trovano negli elementi dell'immagine che non siano il fringing, e riduciamo la saturazione finché il problema non ci sembra risolto. Buono. Dipendentemente dai soggetti può essere utile spostare anche lo hue oltre alla saturazione, oppure creare più punti per non interferire con certe aree dell'immagine. Ogni caso è specifico. Ma in genere quello che ho fatto è sufficiente, non serve maggior precisione. Vediamo un prima e un dopo. E direi che siamo contenti. Vediamo schermo intero. Vedo io e ve lo racconto. Ed è ottimo. Sto facendo dei prima e dopo, ma dubito possiate notare differenze. Facciamo un confronto con i risultati dell'altro metodo. Nel dettaglio, come prevedibile, il color warper è evidentemente più efficace e dimostra di alterare meno l'immagine e il suo complesso, ma nell'osservazione a schermo intero le differenze sono già molto più sottili. Esistono anche software che integrano degli effetti per la riduzione del color fringing, ma ancora nessuno tra quelli che ho provato in questi anni, neppure più declamati, mi ha convinto. Trovo che i due metodi che vi ho appena mostrato siano tendenzialmente più efficaci, ma soprattutto molto più affidabili, versatili e personalizzabili. E quindi sono questi che condivido con voi. A UGG!